Ciao, oggi per Ti racconto il libro di Giovanna Fileccia vi propongo Memorie di una ladra di Dacia Maraini, un romanzo scritto in prima persona in cui la protagonista Teresa ripercorre la sua vita proprio all'interno delle mura carcerarie. Vi faccio ascoltare due brani, il primo all'inizio del romanzo che dice mia madre credeva che ero morta e mio padre stava per buttarmi nell'immondizia allora dicono che dalla mia bocca grande e nera è uscito un terribile grido rabbioso e così hanno capito che ero viva hanno tagliato quel serpente mi hanno lavata e cacciata dentro un letto con gli altri miei sei fratellini. Il secondo brano che ho scelto invece racconta un segmento della vita carceraria. La cosa più attesa era la liberazione di qualche detenuta perché allora chi se ne andava lasciava sigarette, maglie, qualche pezzo di pane, quello che le rimaneva delle sue provviste insomma. Era un momento di euforia e la fortunata faceva la grandiosa. Di solito questa roba veniva divisa tra le più povere, quelle che non ricevevano mai pacchi e non avevano i soldi per rifornirsi. Se però questa liberata aveva la compagna, la sposa insomma, perché lì dentro c'erano i matrimoni come nella vita civile, allora lasciava tutto a lei e buonanotte. Le coppie sposate erano gelose, potevano vivere tranquille, calme se nessuno le disturbava, ma mettiamo che una si innamorava di una di queste accasate. Succedeva il finimondo, uscivano i coltelli e si avventavano. Questo libro che oggi io vi propongo, quando io l'ho lessi, mi fece molto sorridere perché è vero che racconti di un dramma, ma lo racconti in una maniera così leggera, così discorsiva, che è come se ebbi la sensazione che Teresa stesse parlando con me, senza quelle parole particolari oppure quel linguaggio ricercato, piuttosto invece un linguaggio mordace. La Maraini scrisse questo libro dopo che nel 1969 fece un'inchiesta nelle carceri italiane e prese poi tutto questo materiale e nacque proprio Storie di una ladra. Io ne ho attinto a piene mani perché anche i miei personaggi da quel momento hanno cominciato ad avere una certa personalità, così come è molto personale, ha molta personalità il personaggio della Maraini Teresa. Con questo io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima.